Pronto soccorso degli ospedali campani sempre più sotto pressione, sanitari spesso al centro di aggressioni. Una vecchia storia mai risolta. La finestra distrutta venerdì sera nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera, per motivi ancora da chiarire, e la rissa scoppiata tra utenti, hanno spinto la FIALS a chiedere all'azienda di costituirsi parte civile, dando così un segnale di vicinanza a tutto il personale sanitario che, in brevissimo tempo, è passato da essere un eroe ad uno sfogatoio. Insomma, l'episodio di Nocera ha acceso nuovamente i riflettori su un problema atavico. Questa volta nessuna aggressione ai sanitari, sono fuori per fortuna dalla storia della scorsa sera. Ma la situazione di caos e tensione che si è creata nella sala d'attesa ha comunque riportato alla luce una mai risolta questione sicurezza. Dalla segreteria provinciale della FIALS, attraverso la voce del dirigente provinciale Carlo Lopopolo, si chiede nuovamente, come fatto in passato, alla regione campagna di intervenire dando vita nelle strutture ospedaliere a presidi fissi di polizia, al fine di salvaguardare sia la sicurezza degli operatori che degli utenti. Dalla FIALS sottolineano come gli operatori, oltre a garantire l'assistenza e le cure adeguate ai pazienti covid che accedono al pronto soccorso, devono accogliere anche le persone che presentano altre patologie e risulta che ci sia stato un incremento complessivo giornaliero degli accessi. Abbiamo più volte segnalato lo stato di pericolo che il personale sanitario corre quotidianamente nello svolgere la propria attività professionale, sottolinea il dirigente provinciale Lopopolo, ma ad oggi, sottolinea, non ci risulta siano stati adottati provvedimenti che consentano agli operatori di lavorare in piena sicurezza. Le aggressioni, aggiunge, il più delle volte vengono considerate come un rischio del mestiere, non vengono neanche denunciate, ma riteniamo che infermieri, medici, os o qualsiasi altro operatore o cittadini presenti ad episodi non debbano per nessun motivo rischiare la propria incolumità quando si trovano in una struttura sanitaria.